Il Gargano si prepara ad ospitare oltre 100 atleti provenienti da quattro continenti per il Motosurf World Championship 2022, l'evento sportivo che si svolgerà da domani all'11 settembre presso Rudi Garganico. La Marina di Rodio ospiterà le gare in programma. Durante la tre giorni o tra le gare ci saranno momenti di feste ed escursioni e tour guidati che porteranno i partecipanti alla scoperta del territorio del Parco Nazionale del Gargano. Si parte venerdì domani con la registrazione dei partecipanti, sabato dopo il riscaldamento prenderanno il via le gare e domenica ci sarà il tour guidato alla scoperta della foresta ombra, poi la premazione dei vincitori. Saranno oltre 100 i piloti provenienti da ben 16 paesi di quattro diversi continenti. Repubblica Ceca, Corea del Sud, Messico, Gran Bretagna e Kuwait sono alcuni dei paesi di provenienza degli atleti. Il Motosurf è una disciplina sportiva giovane che prevede l'utilizzo di una tavola da surf con motore ad idrogetto. Riconosciuta dall'Unione Internazionale Motonautica nel 2019 e dalla FIM la Federazione Italiana Motonautica nel 2021, si sta diffondendo velocemente. Nel giro di sette anni il numero dei piloti in Europa si è quintuplicato e ultimamente la pratica del motosurf sta crescendo molto anche in Italia. A caratterizzare le gare di motosurf o tra divertimento e adrenalina è una grande attenzione alla sostenibilità all'ambiente. Le tavole con motore infatti hanno un basso impatto ambientale, sono a miscele e hanno dei serbatoi molto piccoli.